In occasione delle prossime festività natalizie per incrementare i controlli sul Green Pass da parte delle Forze dell'Ordine nei locali pubblici si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Segurezza a Udine sotto la regia della Prefettura per fare un punto delle iniziative in programma per il periodo delle festività natalizie visto anche la situazione delicata che la Regione sta attraversando per quanto riguarda il numero dei contagi. Il Prefetto Massimo Marchiesello ha convocato il Comune di Udine, l'azienda sanitaria universitaria Piuli Centrale e gli altri interlocutori istituzionali chiamati a definire una strategia condivisa e fare il punto su eventuali nuove misure restrittive che potrebbero arrivare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È opportuno anche alla luce dei rilievi epidemiologici che stanno salendo anche nella nostra provincia bisognerà sicuramente e chiederemo un'intensificazione dei controlli anche da parte con il concorso della Polizia Locale nei locali, nei pubblici esercizi anche perché non possiamo permetterci in questo momento ma nessuno lo vuole, è un riflesso anche dal punto di vista economico. Ragioneremo col Comune, in particolare di Udine, su quali eventi sono in procinto di organizzare se c'è la necessità di serrare le fila e anche i varchi eventualmente per l'accesso a questo tipo di manifestazione. Anche nel porto nonese nei prossimi giorni, verosimilmente giovedì, si svolgerà una riunione in prefettura per fare il punto sulla situazione della pandemia nel friulio occidentale.